Grazie a tutti. Il prefetto di Trieste ha annunziato Vardè sul tema caldissimo dei 12 propulsori costruiti da Varsila nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra e destinati a un big come la coreana Daewoo. Alcuni giorni fa erano stati tre manager colosso asiatico a incontrare a Trieste il prefetto Vardè e i rappresentanti sindacali in occasione di un tavolo terminato con un nulla di fatto con il confronto di questa mattina. L'interlocuzione è passata a un piano più strettamente istituzionale con il console coreano che ha sottoposto al rappresentante del governo italiano l'urgenza per Daewoo di entrare prima possibile in possesso dei motori. La polizia di frontiera ha rintracciato oggi 42 migranti nei pressi di Sandor Ligo della Valle Dolina, praticamente a ridosso del confine con la Slovenia. Si tratta di persone provenienti da Pakistan, Nepal e Afghanistan. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Quello di oggi però è l'ennesimo arrivo di persone che attraversano il confine a piedi seguendo il passeur oppure a bordo di veicoli che lasciano sul territorio italiano. Domenica il treno regionale Talvisio Trieste ha subito un'improvvisa fermata alla stazione di Bivio d'Aurisina per permettere un soccorso di emergenza. Una donna di 30 anni incinta accompagnata dal marito si è improvvisamente sentita male. Il personale viaggiante ha quindi ordinato l'arresto del convoglio e chiesta assistenza medica. La donna era in preda a forti dolori addominali e conati di vomito. Il centro operativo della polizia ferroviaria di Trieste ha provveduto a coordinare e monitorare la situazione mettendosi in contatto con il capotreno. Alle 16 settimana d'attesa la futura mamma è stata trasportata d'urgenza in ospedale da un'ambulanza. I primi controlli di rito hanno fortunatamente fugato i sospetti di rischio alla salute della donna e del nascituro ponendo un lieto fine alla vicenda. Avviata la seconda edizione di Summer School del progetto regionale Leggiamo 018, l'amministrazione regionale continuerà a sostenere il progetto frutto di un accordo che vede coinvolti tre assessorati, cultura, istruzione, famiglia e salute nella convinzione che ciò che si apprende fino ai 18 anni segni in maniera fondamentale le scelte della propria vita. Accanto a questo un altro elemento cadine del progetto e priorità dell'amministrazione regionale è quello di assicurare le medesime opportunità a tutti i ragazzi. Sport siamo in 3.000, la campagna abbonamenti della Triestina ha raggiunto anche questo importante traguardo reso possibile solo grazie all'affetto e la fiducia dei tifosi da parte dell'intera Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 un grazie a tutta la piazza triestina, la città per questa incredibile risposta che evidenzia e rafforza la volontà da parte di società tifosi di proseguire questo cammino insieme. Con queste parole la società guidata da Giacomini ha commentato la notizia del raggiungimento dei 3.000 abbonamenti. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani sulla regione su pianore costa prevalenza di bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso, venti di brezza e caldo ancora estivo in montagna variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio. Previsioni a cura di Arpa FWG Meteo